Una tradizione religiosa che si rinnova è quella della Madonna del Carmine, domani ultimo giorno del Triduo e poi ci sarà la celebrazione della festa vera e propria. Come è articolata la giornata? La giornata di sabato, giorno della Madonna del Carmine, avrà dei momenti molto importanti. Uno è con le messe di mattina, una alle 8 e una alle 10 e mezza con la benedizione dei bambini. I bambini sono benedetti ma si sta usando ora la vecchia tradizione anche di spogliare i bambini. Si sta iniziando pure qua, oltre che ai capuccini. In modo particolare i bambini che sono stati male e vengono qui da me a dire che grazie a Dio sono stati guariti e intendo non ringraziare il Signore pubblicamente. Poi la messa di sera che si tiene in Piazza Roma. Questa è la messa conclusiva che avrà appunto il simulacro della Madonna sul palco e faremo una messa concelebrata con l'imposizione dello scapolare. Lo scapolare è la grande promessa che la Madonna ha fatto a noi perché lo scapolare è un segno e dobbiamo stare attenti a non fare vedere in questo scapolare un portafortuna. È un segno, una promessa della Madonna perché chi lo indossasse, ma stiamo attenti, con fede, la Madonna ci promette che ci avrebbe agevolato e quindi avrebbe totalmente eliminato dalla fiamma dell'inferno, come dice. Questo scapolare è stato consegnato da San Simone Stoc, un santo che è venerato in modo particolare da noi appunto perché è stato quello che ha voluto mettere in evidenza l'importanza di questo segno ma sempre ripeto che questo segno in un certo o qual modo modifichi la nostra vita perché il problema più importante è quello di seguire il Vangelo. Ci sarà anche la partecipazione dell'Unitalsi con soggetti in difficoltà e volontari. Sì, ci saranno, c'è l'Unitalsi, domani, ultimo giorno del Triduo, ci saranno pure quelli del CAV, Centro Aiuto alla Vita. In un momento di grave crisi forse aumentano le preghiere e la gente si aggrappa, mai come oggi alla fede. Sì, questo è vero. Qui in piazza contiamo circa 600-700 persone. Vedo tanta devozione.